Aldo racconta, sì, ho tante cose da raccontare, tante. Questa salita che a un certo punto saliva al 70%. Ebbene, sono io da solo, in compagnia della mia ombra e del mio quadro che avrà un'avventura. Sì, io sono un viandante oggi, ma non nel sentiero del viandante dalla parte le chiese. Proprio nome fatto, viandante, vedo quelle casette dell'alveare. Non avvicinarmi, per favore, che sono stato appunto già pochi giorni fa da un calabrone. Vedo quelle casette. E quelle casette, le persone che abitano lì, hanno un punto di gravità permanente, rimangono sempre lì. Invece io, Girova Goaldo, oggi per la terza volta, la terza volta dopo il 25 aprile, che ho conosciuto in cima a questo luogo una persona un po' più giovane di me. E intanto lo saluto, perché per sbaglio è andato via il commento. Sono qua, nella parte di fronte alle Alpi Orobbie, sottostante ho il paese grande di Talamona. E sono qua. Anche oggi sto andando, ma dove? Alla chiesina Torchi Bianchi. Non mi manca fiato. Ho un respiro profondo, perché l'aria della Valtellina è molto, molto salubre. Io mi sto incamminando in questo luogo della costiera di Cecche, diciamo dalle Alpi Ritiche, dove incominciano. E sto andando, come ho detto prima, la terza volta, alla chiesina di Torchi Bianchi. Io da solo, tra l'ombra di un albero, che ogni tanto mi rassicura un po' di parte ombrosa, che serve alla mia capacità di essere umano, riparato da questo sole intenso, dove oggi si suda, si suda. Ma l'importante nella vita è raggiungere la meta, la meta ideale che io sto raggiungendo. Ebbene, non devo più ripetere le stesse cose. Arrivo dalla stazione regionale di Talamona, mentre ieri sono arrivato qui vicino, in basso, alla stazione di Morbegno, treno diretto. Ma devo dire che la strada più breve è quella a partire dalla stazione regionale di Talamone, per arrivare in questo luogo inconsapevole, dove avrò una storia del mio quadro. Sì, questo YouTube si allunga fino a che ho la possibilità di parlare, di esprimermi sotto questo bel cielo, questi alberi verdi della Valtellina, provincia di Sondrio. Cosa appare di fronte a me? Cosa appare? Guardate, guardate che bella apparizione. Mi colpì il primo giorno del 25 aprile, quando c'era il tempo nuvoloso. Poi ritornai la seconda volta e conobbi un'altra persona giovane, che anche lui è artista. Mi scrive i commenti. E intanto lo saluto, questo artista giovane, che dovrebbe abitare in questa zona. Ma guardate, lo saluto. Aldo oggi è arrivato alla chiesina di Tronchi Bianchi, a piedi. In linea diretta, praticamente, da qui alla stazione di Talamona, è un chilometro. Ma purtroppo, per motivo di circolazione di auto, di autostrade, di strade provinciali, il sentiero si allunga e mediante io, in questo momento, vado a vedere il lavatoio della chiesina di Torchi Bianchi, dove mi accosterò a nascondere il mio quadro. Sì, non lo porto più indietro, questo quadro. Guardate qua la parte muraria della chiesa, del davanzale di questa piccola chiesa, che per ora è chiusa, ma ha aperto il mio cuore, dove la speranza di esistere, di credere, è immensa, sotto questo cielo azzurro di oggi, dove l'abbandono di me stesso viene riversato sull'abbandono di un quadro, dove io personalmente lo nascondo qui, in un luogo.